Dopo dieci giorni dalla fine del mercato tutelato del gas, il 10 gennaio scorso, non ci sono state impennate nelle bollette dei 3 milioni e mezzo di utenti che sono stati spostati in automatico sul mercato libero. Le tariffe placette che sono state applicate sono in linea con le migliori offerte del mercato libero. In compenso, gli utenti vengono bombardati da telefonate e visite porta a porta che offrono nuovi contratti sul mercato libero, a volte con espedienti truffaldini. Il presidente dell'autorità pubblica dell'energia Stefano Besseghini ha consigliato mettete giù il telefono. L'associazione di consumatori Unione Nazionale Consumatori ha invitato i cittadini a scegliere comparando le offerte sul sito di Arera. Su quanto abbiamo visto per il monitoraggio del gas nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero, ha commentato Besseghini, gli incrementi di prezzo sono molto contenuti. C'è qualche caso di sporadico aumento e questo è il motivo per cui si invitano le persone a controllare la propria situazione.